Al Fantini di Vasto, Bacigalupo, Vastomarini e Olimpia cercano i tre punti, importanti più per il morale che per la classifica, che regita rispettivamente 11 e 0 punti. Le ragazze di casa vanno a caccia della quinta vittoria stagionale, al cospetto di una formazione che, seppur ancora ferma al palo, ha mostrato una crescita costante nelle ultime uscite. Dopo due minuti Forcella recupera palla sulla tre quarti, calcia dal limite, Giacomini blocca. All'ottavo minuto arriva il vantaggio del Vasto Marina, Troisi sfrutta un lancio dalle retrovie che mette in difficoltà Serpente e a porta sguarnita deposita in rete per l'1-0. Continua ad essere pericolosa la formazione di casa con Di Ninni, che dopo un'azione personale chiama Serpente al grande intervento. Da dietro arriva Benedetti, corpo all'indietro e sfera altissima. Al ventesimo il signor Federico Giuseppe Monteferrato di Vasto punisce l'atterramento su Moretta e indica il dischetto. Benedetti è fredda e batte Serpente. Prova a reagire l'Olimpia con Cazzolla, palla a lato. Dall'altra parte Moretta manda alto da buonissima posizione. Sul finire di primo tempo, occasione per il Tris con Serpente miracolosa nella respinta di un tiro dalla distanza. Di Ninni non riesce a correggere il rete in tap-in. Con le immagini di Manu e il centurame passiamo alla ripresa. Dopo cinque minuti Di Ninni si accentra e calcia a giro, ma fuori misura. Poco dopo, Bolognese, subentrata a Di Francesco, non trova la porta su un corner dalla destra. Prova a creare l'Olimpia, ma concede un contropiede condotto da Di Ninni, che serve di Tullio. Il diagonale sfiora il palo. È solo il preludio al gol del 3-0, che arriva dai piedi di Stivaletta. La numero 8, con un tocco morbido, batte l'incolpevole Serpente. Al ventesimo arriva il poker, con un tiro cross di Benedetti, che beffa Serpente. Alla mezz'ora arriva il 5-0 realizzato dalla protezza di Di Ninni, direttamente da calcio di punizione. E poco dopo arriva anche il 6-0. E la doppietta per Di Ninni, che è servita da Serra, non può sbagliare. Sull'altro versante, Forcella fa partire un tiro dalla lunga distanza. Perfetto in termini di precisione e di potenza. E manda in fondo al sacco, per il gol della bandiera, che chiude la partita. Bacigalupo, Vasto Marina, Olimpia, 6-1. Mister, oggi grande partita, risultato netto. Sì, oggi abbiamo disputato una bella partita contro una squadra che meritava qualcosa in più, credo. Anche se noi abbiamo tenuto il campo bene per 90 minuti, facendo diversi gol, diverse azioni. Siamo contenti della crescita di tutte le ragazze, soprattutto delle più piccoline. Oggi era no, oggi era tutta la squadra no. Loro logicamente hanno meritato, noi abbiamo demeritato. Non c'era la squadra oggi, proprio zero. Dall'ultima partita che abbiamo fatto contro la Cantera, che abbiamo fatto una bellissima partita, anche perdendo 2-1. Ma oggi proprio non c'era la squadra. Abbiamo sbagliato moduli, passaggi, di tutto. E poi, mi dispiace dirlo, ma mi prendo responsabilità un arbitraggio pessimo. Ma mi prendo tutta la responsabilità. Non si possono vedere errori arbitrali così.